letture metropolitane su radioelettrica trasmissione antifascista anti snob e per questo dopo aver visto i monoskin all'olimpico l'anno scorso io quest'anno Flavia ha visto il concerto di Angelina Mango sono andata a vedere il concerto di Angelina Mango allora partiamo dal presupposto che io non ho particolari come diceva anche lui rispetto all'antismobismo non ho particolari problemi a dare credito a musica diciamo recente anche pop anche mainstream in questo caso devo dire il come si dice la motivazione principale era portare una piccola fan cioè non so se da sola sarei andata così però devo dire che è stato un concerto assolutamente godibile cornice atlantico quindi palestra l'atlantico è la palestra avete presente la palestra del liceo dove quella è la palestra il rimbombo dei palloni esatto esattamente questo purtroppo grazie capitale italiana che ci regala questi spazi diciamo ringraziamo il fatto che già non l'avessero richiuso per la 126esima volta poco prima del concerto come è successo per molti altri spesso è un luogo alla cultura in questo paese esatto è un luogo al quale in realtà sono abbastanza affezionata perché ho visto la prima per la prima volta a Roma bet art all'atlantico ero in possesso di un meet and greet quindi ho visto anche le prove e eravamo lo stesso numero alle prove e praticamente sì eravamo pochissimi vabbè ma era tanto tempo fa e invece Angelina Mango ha registrato sold out due date a Roma 11 e 12 ottobre sold out entrambe 14 ottobre a Napoli e poi ha interrotto il tour perché sì diciamo che forse si è sforzato un po' troppo però poi penso che lo riprenderà comunque fatto sta che il pubblico era effettivamente molto basso d'età c'erano tanti tantissimi e tantissime bambini e bambine cosa che francamente non avevo mai visto e anche questa è cultura come no? infatti io nella mia testa dicevo ecco questa sarebbe stata l'occasione perfetta per fare un bel concerto alle 7 alle 6 cioè quelle cose ah che gioia di vivere invece no vabbè comunque devo dire che la precisione oraria è stata un plus alle 9 preciso è cominciato il concerto un certo devo dire estremamente godibile io conoscevo poco diciamo due tre canzoni le più famose ovvero? ovvero la noia melodramma e quell'altra che amma fa come come è una cosa del genere che non mi ricordo ecco cos'è come è una? no ve lo dico subito aspetta che te lo dica fa? che te lo dica fa esatto che però ah sì che te lo dica fa ecco è precedente ma è stata inserita nel disco pochè melodrama come penultimo per l'ultima traccia allora devo dire che non mi aspettavo questa quantità di ballate ci sono tante canzoni ci sono anche molti pezzi mossi divertenti ritmati ma ci sono anche tante ballate che sottolineano la capacità vocale di Angelina Mango che sicuramente è importante devo dire che probabilmente l'ha un po' tradita forse anche a parte il discorso diciamo del tempo e delle influenze stagionali probabilmente si è anche molto sforzata perché si vedeva che era in una condizione emotiva forte che non ha inciso sulla performance nel senso che non ha avuto cali su quello anzi probabilmente l'ha resa ancora più coinvolgente perché appunto lei varie volte durante il concerto ci ha tenuto a sottolineare quanto era felice di fare questa cosa di quanto era bello quel momento della sua vita quanto era emozionata quanto era commossa l'ha detto tre quattro volte poi si vedeva insomma le veniva da piangere era il primo concerto di questo tour tra l'altro di questo tour sì da quando ha vinto Sanremo e quando ha partecipato all'Eurovision diciamo ha fatto il botto vero ecco ha suonato una volta al Fabric il 17 di aprile ma appunto immaginate appunto l'esplosione anche la ah finalmente ho capito di che cos'era quella cover leggendo la set list ah l'hai trovata quindi? c'era una cover in inglese di Post Malone ah ok non ci sarei mai arrivata nel mondo la mia conoscenza di Post Malone è prete inesistente dicevo anche a livello proprio emotivo bisogna calcolare tutto il carico che arriva addosso ad un gruppo ad un artista singolo appunto band subito dopo una grandissima esposizione sì possiamo anche aggiungere i passaggi nei talent lei ha partecipato se non sbaglio da amici ma è veramente deflaggrata con la vittoria a Sanremo subito dopo è andata l'Eurovision ha partecipato tra l'altro tenendo testissima anche a livello di di coreografia di impianto di spettacolo ma all'attivo ha pochissimi concerti quindi lode a lei che appunto ci sta che magari non ha retto molto bene un po' sgravato forse anche per appunto grande emotività devo ringraziare invece io che non ero al concerto le ciotoline che ringrazio tantissimo anche perché mi permettono di arrivare e scansare tutto ciò che è no ma cosa ti ascolta Angelina Mango ma ti pare quelli con il monocolo le ciotoline sono una sorta di fan club del fan club del fan club un estratto di entusiasmo proprio dedicato a Angelina Mango se volete sapere perché si chiamano ciotoline cercate sono ben io ho visto il concetto praticamente a pezzettini grazie al loro instagram quindi il palco scarnissimo do qualche altro elemento sì una set list di 23 pezzi praticamente tutta la sua discografia praticamente sì tutta la sua discografia compresa appunto questa cover di Don't Understand di Post Malone non ha cantato in spagnolo però no non ha cantato in spagnolo cioè melodrama in spagnolo no no ha cantato appunto le sue canzoni la band era composta da batteria, chitarra, basso, tastiera e percussioni varie diciamo percussioni varie elettriche e acustiche fiato anche quella che faceva le percussioni aveva anche degli strumenti a fiato e devo dire è stato appunto un bel concerto lei molto sul pezzo molto coinvolta con una performance forte non si è fermata un attimo è vero non è durato tantissimo circa un'ora e venti però un'ora e venti serrata cioè lei non ha mai fatto mezza pausa e ho letto a seguito tutta una serie di commenti come al solito come spesso succede su di lei sul suo corpo perché devono per forza parlare che non riescono a stare sereni a sentirsi solo una canzone come una donna canta ma leggevi testi di persone sopra i 30 anni? no non in quel momento no no poi nei giorni successivi no devo dire io poi non leggo i commenti quindi non so cioè l'ho saputo diciamo l'ho letto per birraverse per cose riportate però insomma mi sembra veramente come al solito una roba che distrae da lei c'è da dire che la prima cosa che ti hanno chiesto i tuoi vicini di concerto che scarpe avesse Angelina Mango sì perché tra l'altro Angelina Mango appunto il palco si vedeva abbastanza bene però a parte il fatto che c'erano tutti i bambini che poveracci non venivano niente essendo bambini e quindi bassi però insomma anche lei non è altissima quindi non si vedeva completamente sempre tutta la figura e quindi una signora accanto a me mi fa ma che scarpe ha? io diciamo mi sono ratteuta al dirle ma che gli frega in romano devo dire che aveva degli stivali sì ma sono degli stivali molto complessi successivamente io mi sono fissato a vedere le scarpe a me piaceva tantissimo il look non particolarmente sobrio però mi ricordava un po' Taylor Swift come mood diciamo non lo so a me piace molto il suo modo di approcciarsi perché è un modo molto da pop star è una pop star esatto però pop star seria cioè quella che veramente sa fare tante cose insieme sa ballare sa cantare però non dimentica tutta una parte diciamo più legata alla vocalità alla precisione che sono magari invece più legate anche a un'abitudine al cantare dal vivo quindi senza supporti quindi con strumenti veri non lo so secondo me lei è una buona via di mezzo poi certo il genere può piacere o meno la scrittura delle canzoni può piacere o meno a me non dispiace è un po' una via di mezzo il pop poi ci sono degli elementi di rap trap in mezzo cioè lei ogni tanto rappa tra l'altro ha sostituito i featuring sì ha fatto tutti i feat delle canzoni che insomma lei ha normalmente con altri artisti le ha fatti da sola quindi ha fatto anche le parti rap e stiamo parlando di Marco Vengoni, Brash, Danny Five e Villa Banks diciamo che lei da sola stava tranquillamente però va bene così poi questi tocchi anche un po' di dialetto ce ne sono spesso lei utilizza appunto sia il dialetto lucano credo sull'Italia sicuramente sì lucano e anche campano insomma più un po' una via di mezzo a me non dispiace è un pop molto contaminato sono molto contento esatto c'è anche una grossa parte per esempio di musica orientale non lo so io la trovo interessante bene abbiamo già parlato di Angelina Mango non è il primo passaggio radiofonico ne abbiamo anche inserita nel torneo dei tormentoni tra l'altro purtroppo per Melodramma lei è uscita subito perché gareggiava insieme a sesso e samba se non sbaglio nel senso che la sua era una canzone diciamo di livello non da tormentone quasi il migliore quindi purtroppo ha perso il torneo dei tormentoni brutti però sicuramente tornando alle scarpe continuando a parlare di scarpe in radio come se fosse una cosa ribellina devono far notare che il concerto di Napoli aveva degli stivali fosforescenti bianchi cioè no Napoli non ha fatto i concerti Napoli sì sì si Molfetta è saltato no non era fosforescente bianco ma brillavano al buio quindi erano bianchi e con la... vabbè mi sono fissato mi sono intrippato per darvi però maggiori condizioni di chi è Angelina Mango che cos'è il suo lavoro recente il suo lavoro più recente appunto prendevo la prima traccia di poche melodrama prima però devo inserire gioielli di famiglia esattamente mi piace molto 351-5241-101 il numero per intervenire in diretta e Fabrizio alla Whatsapp scrive buongiorno Flavia buongiorno Giovanni vi capisco perché io ho portato la mia figlia all'arena di Reggio Emilia a vedere i pinguini tattici nucleari uno scopre cose anche è il trapasso di nozione aprendosi al mondo a me mi hanno insegnato a appogare non ho capito poi sempre loro devono imparare da noi ma sarà che pure noi impariamo un po' da loro ce l'abbiamo alle orecchie? mi sembra fondamentale e poi se sono collegate al cervello possiamo parlare intanto ah non proprio cantabilissime le canzoni di Gina Manco perché sono piuttosto complesse lei ha una bella estensione vocale quando va in alto va molto di falsetto però lo comanda secondo me benissimo però poi pensate a quanto salta salta, zompa, fa e nel frattempo canta quindi insomma Angelina take care stai vai 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 alla prossima Angelina Manco gioielli di famiglia ho chiuso l'amore dentro ad una stanza